Stavo sdraiato per terra, quasi piangevo perché era arrivato al culmine della sopportazione. Lui mi viene vicino, ritendo, mi fa, ma a te che te capita? Lui parla toscano, lo sai, ma no, non ce la faccio più, mi sta massacrando, non ce la faccio più. Ah sì, va vicino a me, e te mi devi preoccupare quando non ti dico più niente. Questa frase qua mi ha fatto vedere tutto diverso, mi preoccupavo quando lui non mi diceva niente. Questa frase io me la riporto, me la sono riportata dietro negli anni che anche adesso, quando gioco con i ragazzi o quando, perché mi diverto ancora a giocare a pallone, la riporto alle persone dove io vedo che qualcuno è più bravo, quindi lo riprendo spesso, e lui mi fa, mamma mia, Dino, basta. E lui gli ripeto sempre.